Capitolo 1 Balzo sul lago Così mi chiedete di raccontarvi di... di quello col cappello. Ma, beh, preferivo parlarvi di cose più semplici, come i motivi dell'invasione delle bestie o cos'ha in testa il califo di Bari, sapete? Non vi biasimo, accidenti. In fondo, anche io farei domande dopo quello che è successo oggi. Solo una cosa ci tengo a dirvi prima di iniziare, anzi due. La prima, tutto quello che sto per raccontarvi è vero, l'ho visto con i miei occhi e da giorni entra nei miei sogni e resta con me ogni istante. La seconda, non chiedetemi di darvi spiegazioni su questo o quello, per favore, che non vi venga in mente di pensare che io abbia chissà quale comprensione, ok? Non ho risposte, ragazzi. Ho visto cose. Le ho provate sulla mia pelle. Le ho... toccate. So che esistono. E forse... anche il motivo per cui esistono. Ma non so come riesco a crederci e fino a che punto. Siamo arrivati a Balzo sul Lago circa otto giorni fa, dopo aver traversato le montagne. Non una passeggiata, soprattutto pensando a quello che stava accadendo a casa. Padre Paolo, maledetto lui, e i mostri che si portava dietro, era stato chiaro. L'unico a poter distruggere la maledizione su San Vito era Faisal Falesia. La vita delle nostre famiglie dipendeva soltanto da noi. Così, abbiamo provato a sbrigarci ad attraversare l'Appennino, ma... Nelle nostre teste c'era davvero un pessimo presentimento. Un presentimento di morte. Un'ombra scavava nelle menti. La certezza che la nostra non fosse solo una missione di salvataggio. Anzi, che non lo fosse per niente. Missione di salvataggio. Se solo avessimo saputo. In ogni caso, in quel momento, pensavamo di avere semplice paura di quello col cappello. E dei racconti sul fatto che fosse uno stregone. E probabilmente una sorta di signore della guerra sadico e sanguinario. Infine, dato che i problemi non viaggiano mai da soli, propriamente scolinavamo e Balzo sembrava avvicinarsi fin troppo velocemente, il povero Boris si è sentito male. Siamo andati a dormire una sera, e la mattina dopo il nostro amico faticava a svegliarsi. Non ci è voluto molto per renderci conto di quanto la sua febbre fosse sospetta, né del motivo per cui i suoi occhi fossero rivoltati all'indietro, nascondendo alla nostra vista le pupille. Follia, abbiamo pensato con un brivido. Sapete, a Balzo sul lago, per qualche tempo, nelle nostre menti si è affacciato il sospetto che si fosse trattato di una diavoleria collegata a quello col cappello. Ha un suo effetto nefasto a... Non lo so, ma abbiamo cominciato a pensare che fosse una sorta di maleficio causato dalla sua vicinanza. Maledizioni su maledizioni, già. Ci siamo ridotti a vedere orrori e maledizioni ovunque. La cosa divertente è che solo qualche giorno dopo abbiamo pensato che a far ammalare Boris siano stati invece padre Paolo e i suoi potenti amici. Ma perché provare a fare una strage dentro Balzo sul lago, quando il suo vero scopo era portare Faisal fa a Alessia qui, dove avrebbe potuto tenerlo sotto controllo? Ma sto correndo troppo, scusate. Non è questo che voglio raccontare adesso. Veniamo al punto. Circa un giorno e mezzo dopo l'attacco di follia al povero Boris, eravamo a Balzo sul lago, sotto una maledetta tempesta di sabbia. Una cittadella costruita attorno a quel che resta di un paese su un lago prosciugato, tra le montagne, recintato da mura di cemento, sorvegliato da uomini armati, carri, bipedi, navette d'assalto. C'è un esercito a Balzo sul lago. Anzi, non un esercito. Un'armata. E noi ce l'avevamo davanti. Al suo interno Balzo sul lago è davvero una specie di fortezza. Le voci sul fatto che sia abitata da una colonia di ribelli sono vere. Ci si trova un po' di tutto. Disertori del nord, altri dei califati, partigiani socialisti incazzati col mondo, giuro. Persino qualche corsaro dell'aria. Alcuni mercanti ambulanti. Insomma, un posticino allegro e pieno di vita. A comandarlo, c'è quello che credo sia un disertore italiano, un colonnello di nome Sartori. Un uomo tutto disciplina e rispetto. Piuttosto sospettoso, ma mi ha dato l'idea di pensare seriamente al benessere dei suoi. Hanno colonizzato quella palle e ne hanno fatto una specie di città-stato. Probabilmente l'obiettivo era gestire il commercio di schiavi con dazzi imposti e chissà cos'altro. Credo però che qualcosa sia cambiato da quando quello col cappello è arrivato. Ha portato con sé molti altri militari, tutti soldati addestrati e ben equipaggiati. Divise con simboli riconoscibili, armi d'ordinanza, forniture professionali. Molti soldati erano ancora in addestramento, altri sembravano veterani. Si stanno preparando a una guerra. La nostra accoglienza è stata sbrigativa, viste le condizioni di Boris. Solo pochi minuti ed eravamo all'ospedale, assistiti da medici e soldati. Boris stava malissimo, ma sembrava nelle buone mani di quelli che, penso, fossero i luogotenenti di Falesia. L'hanno portato di sopra, al reparto. È stata l'ultima volta che l'abbiamo visto vivo e normale. Santo cielo. Io, Francesco e Margherita siamo stati presi in consegna dalle guardie, portati in cucina, sfamati. In quanto viaggiatori ci aspettavamo di essere interrogati, soprattutto perché arrivati la sera, portando con noi quello che sembrava un po' seduto. Capite cosa voglio dire. Invece, al contrario, siamo stati accolti senza neanche una domanda. Ci è sembrato strano. Ci è sembrato tanto strano da farci venire i brivi di maledizione. Chi diavolo fa entrare gente come noi in un forte, nella terra di nessuno, senza neanche una domanda? Forse chi già sa che qualcuno sta per arrivare. Perché Faisal Falesia non dovrebbe avere spie e osservatori tra le montagne del resto? Sempre che non ci avesse visto attraverso una maledetta palla di vetro, certo. In ogni caso, alla fine, l'abbiamo incontrato. È venuto da noi quella sera, piombando nella saletta che ci ospitava, trafelato e accompagnato dal buio. E allora, per noi è cambiato tutto. L'avete visto l'uomo col cappello, no? L'avete visto che tipo è? Beh, voi l'avete visto dopo una battaglia, alcuni di voi l'hanno visto combattere. Noi no. Noi ce lo siamo trovati di fronte alla luce di un camino, vestito con quella strana divisa nera e il volto in ombra a causa delle falde del cappellaccio in testa. Non esattamente un'immagine amichevole. Non so bene come dobbiamo essergli sembrati, ma per dieci, quindici minuti successivi, beh, pendevamo dalle sue labbra. Non che ci abbia detto chissà che, eravamo benvenuti, e non dovevamo preoccuparci, perché Boris era sotto osservazione. Non abbiamo usato chiedere cosa diavolo intendesse di preciso, eravamo arrivati all'idea che l'uomo col cappello stesse analizzando il nostro compagno, forse con qualche rito, forse per capire che diavolo avesse. In fondo, però, non ci pensavamo. Avevamo occhi soltanto per... per le sue armi, e per quel volto pallido illuminato dalla luce del fuoco. Alla fine se n'è andato, chiudendo la porta dietro di sé e lasciandoci ancora una volta da soli. Pensavamo a lui. Pensavamo a quanto ci facesse paura. Era molto peggio che nei racconti. Molto, molto peggio. Ho pensato molto a quello col cappello, chiuso nella stanzetta che ci avevano riservato. Ho pensato alle cose che abbiamo sentito in sua presenza, alle sue parole, a... Insomma, quando incontri qualcuno di cui forse dovresti avere paura, non controlli i tuoi pensieri, mi spiego? Io credo che tutte le riflessioni su di lui, su chi fosse, su cosa volesse, abbiano preso il loro posto nella mia mente già negli istanti successivi alla chiusura della porta. A pesare erano i racconti su quello che faceva i suoi nemici, certo, sulle impiccagioni, sulle rappresaglie, ma era soprattutto lui. Lui. Lui ti lascia addosso i brividi anche quando non c'è e anche quando ti sorride. Anche quando è calmo e ti sorride, sì. Faticava a mettere a fuoco il suo volto. Anche se era stato a meno di un palmo da me, la mia mente aveva registrato solo pochi e inutili dettagli. In ogni caso, non ebbi chissà quanto tempo per pensarci. Quando abbiamo iniziato a sentire le urla di Boris, la nostra concentrazione si è spustata. Le urla arrivavano dai piani superiori, dove lo avevano portato. Urla bestiali. Sembrava una tortura, santo cielo. In un primo momento il pensiero è stato quello di scattare di sopra e di fermare quello col cappello che nel frattempo aveva iniziato a... cantare. Una nenia, tetra e inquietante, della quale ci arrivavano solo pochi echi, coperti dalle urla ed altri rumori dal resto dell'ospedale. È continuata per almeno venti minuti, sempre più forte e assordante, finché alla fine tutto non si è fermato di colpo. Il non udire è stato peggio che udire, sapete? Almeno fino a poco prima potevamo dire di avere un'idea di cosa stessa succedendo e forse del motivo. Quel silenzio, invece, non faceva altro che portare dubbi. Quando è tornato da noi pakistanti dopo, insieme a due dei suoi locotenenti, quel Marigan, quello che ha guidato l'assalto contro padre Paolo, e Jack De Moon, l'americano, che ora sta giù all'accampamento fuori San Vito, lo abbiamo riempito di domande su come stesse Boris, ma non abbiamo osato chiedere che stesse succedendo a balzo, né se le storie fossero vere. È stato molto onesto fin dall'inizio. Ci ha detto che le condizioni di Boris erano critiche e che probabilmente non ce l'avrebbe fatta. Inoltre ci ha accennato già allora che il suo intervento sarebbe potuto andare storto, in qualche modo, e che forse ci sarebbero stati esiti imprevisti, pregandoci di non fare domande, perché non voleva indurci al panico. Col senno di poi, credo che avesse già previsto come sarebbero andate le cose. E col senno di poi vi dico che mentre parlava di quelle cose stava soffrendo, in qualche modo. Soffrendo per Boris. Non fate quella faccia, non fatela. Io vi assicuro che Faisal Falesia fa quello che fa, perché detesta che le cose vadano a finire come per Boris, che combatte per gente come lui. Avete dubbi, vero? Oh, sì. Ne ho avuti molti anche io, ma quella conversazione mi ha fatto capire qualcosa su di lui. È stato strano. Come una rivelazione. Assurdo a pensarci, se tengo conto del fatto che non so poi così tanto di lui, ma i suoi occhi, quella sera, mi hanno detto molto. Davvero molto. Quella notte abbiamo dormito alla locanda del paese, dall'altra parte della piazza. Un piccolo punto di sosta per viaggiatori e per soldati. Un luogo deserto. Ci hanno raccontato che prima dell'arrivo della milizia ospitava qualche viaggiatore di tanto in tanto, magari dei mercanti, ma dalla comparsa dell'uomo col cappello sembrava che eventuali viaggiatori vengano accolti direttamente all'accampamento dei nuovi arrivati. L'ospitalità di Lundgren, un ex soldato tedesco, è stata molto buona e il pasto è abbondante. Davvero un posto accogliente, ma come potete immaginare quella notte non abbiamo dormito molto. Adesso che ho seguito quello col cappello in battaglia, sono pieno di domande. Figuratevi quella sera quante ne avessi. Per fortuna la nottata è andata bene. Non ci sono stati problemi né all'alloggio né all'ospedale. Almeno quello. Il giorno dopo siamo andati subito a vedere come stesse Boris e lì abbiamo incontrato il comandante della colonia e molti di quelli che avrebbero seguito Faisal qui, in battaglia. Potrei passare ore a raccontarvi di quanto ci siano sembrati interessanti già una prima occhiata, ma credo sia meglio tenerci questa cosa per dopo. Sapete, raccontare la morte di Boris? Beh, capirete che non è esattamente la cosa più semplice al mondo per noi. Quel giorno ho parlato a quello col cappello, con molta più tranquillità. Per la prima volta mi sono ritrovato faccia a faccia con Faisal Falesia sopra il tetto dell'ospedale, subito dopo un altro suo intervento su Boris. mi ha confermato senza mezzi termini che per lui c'erano ben poche speranze e subito dopo ha cominciato ad interrogarmi sul perché fossimo venuti. così gli ho raccontato tutto. Gli ho raccontato dell'attacco delle bestie a San Vito, gli ho raccontato delle parole di Padre Paolo circa la maledizione che ci aveva colpito, gli ho raccontato persino del sacrificio fatto per allontanare le bestie e infine delle accuse di Padre Paolo verso alcuni abitanti del paese. Ma più raccontavo più quello col cappello sembrava sembrava soppesare ogni mia singola parola come se volesse capire se stessi mentendo. In poco ho compreso che quella non era un'allegra cacchierata all'aria aperta, no, quello era un interrogatorio. gentile, discreto, ma un interrogatorio e le domande si facevano via via più precise e complesse. Ha chiesto di Padre Paolo, ha chiesto delle bestie, ha chiesto del culto creato per combatterle e di cosa pensassi del fatto che per scacciare gli abomini dal villaggio il prete mi avesse invitato a cercare proprio lui. Aveva già capito tutto. Probabilmente mi aveva letto nella mente e vi aveva visto molto. dal canto mio ho pensato di nuovo di chiedergli qualcosa. Chi fosse? Cosa ci facesse a balzo? Quale fosse il vero obiettivo di quell'esercito di pazzi che aveva messo su? Ma come potete immaginare? Non sono riuscito ad aprire bocca. Di nuovo. Non si affronta di petto quello col cappello, ve lo posso giurare. Non ci riesci neanche quando hai l'impressione di poter osare. Avevo tutte le domande pronte in quel momento, tutte, ma le labbra non si muovevano. Divertente, vero? La cosa ancora più divertente è che ho speso praticamente l'intera serata con lui, con i suoi uomini e non ho chiesto proprio niente. Non ho chiuso occhio neanche la notte successiva. No. Se non altro, i primi spari dell'ospedale mi hanno colto da sveglio. Un attimo ed ero alla finestra. Per tutto il tempo, in fondo alla mia testa c'era stato il timore che potesse accadere da un momento all'altro. Ma non credevo che avrei davvero visto una cosa del genere. Ho guardato quello col cappello inseguire di tetto in tetto ciò in cui Boris si era tramutato e ho capito che tutto era davvero cambiato per sempre. Un attimo e Balzo sul lago si era riempito di urla. A presto. Grazie a tutti